cos'è? cos'è? nooo ok vi tiro su io vi tiro su io aspettate no ti tirano le mojuro io oddio 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 ho paura ho paura assistente oh no hai fatto flicker e si è aggiunto qualcun altro no perchè mi si devono baggare vabbè ma al massimo lascialo fermo lì allora red ti presento i miei tre scagnozzi no non perchè vuoi che ne aggiungo un altro? è un tuo clone come farò? sarà un problema dammi una frazione di secondo combattete per il mio cuore per il mio amore per il tuo amore no come te lo regalo? ma non c'è gusto così non lo voglio più riprenditelo perfetto amici riprenditelo tu che a me è allora decidiamo sul ring adesso vi picchio va bene vai via è mio lord è mio lord è mio lord cos'era? come hai fatto? no 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 mollami ti faccio mangiare il mio mio ok l'hai detto tu mollami intendevo mollami sul container mia difesa no me lo voglio andare ma mollatemi non vi voglio più andate via aspetta me ne vado di qua aspetta me ne vado di qua aspetta me ne vado di qua se mi dici che me lo devo tenere ti butto giù e me lo tengo me ne vado di qua e mi porto via la tavola mi porto via la tavola aspetta hai giunto no dove vado? aspetta aspetta niente siamo volati giù per il tuo amore no non ti lascio da solo nell'ascensore no me ne vado via voi divertitevi no no aspetta aspetta ma perchè tira su solo le mani sto a fare? sulle mani perchè cosa deve tira su anche? assistente balliamo mi concita al prossimo ballo vai vai come fa? vai via ma perchè svengo? vai giù vai giù oh oddio no vabbè non comincia a vincere non c'è più gusto basta ma sai che buttare i gassi giù dal quarto prima vi siete buttati da su non è una bella cosa vabbè dovresti essere caduta in piedi sono passabile di tenuta si l'assistente cade sempre in piedi tipo le ginocchia in gola adesso non vieni da me che la stai facendo no red red che la stai facendo red red non è miglior con quanto lag cos'è? mi piace così mi piace così cos'è una nuova posizione del camasoltra ma ti vede da sotto la sottacola copriti gli occhi sei troppo giovane ah ok no mi sono liberato di red no 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 aspetta 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 no mi devo passare io mi devo passare io no 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 dove sono? dove sono? non mi vedo dove sono? no no che faccio sotto? no aiuto ho imparato a tirare i pugni schifo tutto schifo tutto ho i pugni nelle mani io no non mi rubi le battute ho le mani nei pugni buoni buoni no no non voglio figli red ok fuori uno così siamo solo io e te no ok sto toccando le corde devi mollarmi quando tocco le corde no no ti mollo allora ti mollo no no che recupero che fail no molla molla non voglio il prossimo ballo spingi red spingi red noi no sai che sono contrappile a le spingizioni no 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 con che proagine allora o abbiamo noi l'On e se lo tiene uno dei due quindi dobbiamo combattere oppure distruggiamo l'On e conquistiamo no no me ne vado via me ne vado via aprite conquistiamo l'On vado via vado via mi suicido io e non c'è gusto così vero no cos'è cos'è no meno non sei di nessuno No, basta allearvi! Cos'è?! Non sei di nessuno! Non voglio il prossimo ballo! Via! Via! Attenti! No, che c'è bruciore di s... Ho preso l'ordine! Ho preso l'ordine! Ha portato con me! Vittoria! Hai portato me la porta con te Le vuoi un po' di legge? No, 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 no! No, 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 no! Porco cane! Andate via! Andate via! Levate via! Cos'è?! Cos'è?! No! credo che dovremmo combattere adesso altro al sudore non poteva vivere ha scelto il suicidio no io ho fatto una battuta ok fuori uno ahahah la mia craniata è differente non voglio stare qui no sto crollando veramente su tutte le scale no no che faccio no le scale credevo si salva l'asso Mi dimentico sempre che bisogna usare questo tasticolo Aggrappati a co Ho tre pare La bella ragazzi Chi vince questa vince tutto No il cartellone no 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 Via Lasciami Lasciami il cartellone Lo voglio io E allora morirà No Il cartellone Ha vinto l'assistente Non ci credo Assistente c'è un buco No Suicidio all'ultimo Ma io vedo qualcosa di diverso Ma quel gatto lì non era No 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 Io questa volta voglio vincere Questa volta voglio Cos'è Allora giochiamo per vincere No 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 Vieni qui Vai via No Voglio vivere Non sono pedo Ti stavo salvando la vita Ho paura Ho paura Assistente Dobbiamo vincere Levatevi Ma perché io spengo sempre Sono scivolato Ma cos'è Ma cos'è Ma cos'è Ma perché state cercando di buttarmi giù Levatevi Mi sono appeso sopra Cos'è No scusa assistente Mi sei aggrappato a me Divertitevi Divertitevi Volami Guarda avanti Io resto qua su Voglio che cadi Io resto qua su No Assistente Io sono là sopra Appeso tranquillo Con un braccio rotto Guardalo Sto facendo ginastica Mi devo preparare Per il Vietnam Il Vietnam ragazzi Il Vietnam No mi si è aperta la porta dell'ascensore Mi sono spaventato Arrivo Arrivo No è arrivato Red No 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 Allora schiaccio tutti i bottoni Così rimanete bloccati Senta che me ne vado di qui Ti schiaccio Ti butto giù dalle porte Ma come Ciao ragazzi Abbiamo perso l'assistente Ciao Miau Vieni vieni Ti voglio tutto Io No vai giù Vai giù Vai giù Voglio quegli occhiali Dammi tu No Li ho rubati un altro Ho dovuto coltellare tre barboni Per questi occhiali Vai via Ma non mi interessano Me li hanno rubati Sono caduto malissimo Eccati da su sto coso Come si fa Ah Sono caduto No 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 Voglio tornare su Arrivo l'ora Ma cosa sei Assassi iscritti Aiuto 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 No no Aiuto No Red Red mollami Sono aggrappato Guarda gli occhiali Se muoio io mori tu È attaccato gli occhiali No no Cos'è Cos'è Mi sei minchiato tu stavolta Era attaccato gli occhiali Red tutto questo per degli occhiali Era attaccato gli occhiali Eh sì Ne valsa la pena Come ci siamo ridotti ragazzi Buoni 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 Perché mi sono levate Ma perché io prendo sempre le scarpate Levate Levate Lei è svenuta No Lo sai che non mi piace No La carne di orso triturata Neanche a me Neanche a me Cos'è Mi piace vescolarla con un po' di gatto No Ah sì Allora butta il traccio Che è successo Ciccio Sono svenuto male No no Assistente No 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 Vittoria No 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 Mi salvo Mi salvo Devi stare fermo come delle staglie mobili No No Guarda come va No mi è arrivata una ventata Oh Dio poverino Era un po' Mi gira a me anche a me la tenza Anche le balle però Red Metti a disniffare il plutonio dal pavimento No 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 Guarda che fattenti Cos'è Sono appeso sotto No aiuto Assistente Non ci credo che lo ne ha appeso Sono appeso sotto Non ci credo che lo ne ha appeso Sono appeso sotto Non l'ami no Vinco io Vinco io Non ci credo No Alla facciaccia vostra Infame I miei baffi si erano appesi lì sul metallo Adesso ti faccio una bella ringa Va bene Mi chiamavano Rocchi Mi chiamavano Rocchio Io sono l'avvocato del diavolo No Ok ecco sta Corri aia Io gli avvocati li picchio per colazione Oh cos'è Sono svenuti in piedi Ma ti si La spina dorsale No no E' il giaccone che è completamente sporco E' il giaccone che è troppo sporco Stai in piedi Mia gatto C'è un gatto rabbioso Ma cosa fa Stai stare il gatto Oh Aia Ancora in piedi No gli occhiali non li avrete Non avrete i miei occhiali Ma io li voglio No 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 per le gambe Assistente L'assistente ce l'ha pensato Lo voglio io Levatevi No ma lascialo Lo voglio io Non mi voglio nemmeno io Ma ti sta tenendo per mano Scusami Levatevi Levatevi Basta Cos'è No 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 Mi salvo Non ci credo Mi salvo Non ci credo No voglio vivere Non ci credo No no rent No Red no Uccidilo Oh 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 Cos'era è smeluto dormo qui no mi hai preso per il pirulino ecco perché pesava eh sì il mio pirulino modestamente è il signor pirulino oh com'è ricordi no che se cade la testa cade tutto come coi gatti vai fuori oh non finiva più sta battaglia mannaggia no stavo per cadere di sotto no levati sono in una posizione ambigua ma lasciami ma perché non far cadere il mio amore assistente questa è mia non voglio vedere sto coprendo le scene buoni buoni perché adesso io voglio l'assistente io voglio l'asse di legno ragazzi sono messo malissimo ragazzi sono messo malissimo molla l'on che state facendo eh c'ho le gambe incastrate l'on io non riesco a muovermi da qui che lo state facendo l'on mi stai schiacciando le gambe con l'asse di legno dammi un secondo lo vedo fra un secondo red la sposta io cos'è cosa è successo all'asse ok ho liberato l'asse era la mia ragione ma sono ancora incastrato l'on cos'è che mi tiene incastrato mi sa che sei bloccato male red tranquillo fra un secondo andrà tutto bene io volevo saltare ti scastro fra un secondo red guarda che se tu rompi quel posto lì con i denti poi tu cadi perché io sono incastrato e tu no ok a posto risolta io sono salvo come sei salvo e lui è bloccato sono incastrato a mezz'ora che te lo dico no no che faccio adesso molla l'on no no provo a ondeggiare provo a ondeggiare ma cosa vuoi mi sale il momento tardo non stai buono ma sembri più un tarzanello ma però sinceramente slanciati e urla se la posso fare slanciati e vince l'incastrato non ci credo non il raccomandato l'incastrato no no mi hanno incastrato i raccomandati ovviamente vinceremo noi gli animali della foresta ecco andatevi a divertire no red red ma no questo lo devo guardare red vinceremo non è entrita carne avvicinati avevo fame volevo mangiarmi red abbiamo perso eh sono caduto nella macchina dammi un secondo ti faccio vedere dove è finito red aspetta eh sono finito nella pubblicità del amulino bianco aspetta fidati fidati è un bel posticino nel paradiso di gatti no che c'è nato red no ma io sono un orso in questo gioco vabbè non importa gatti e orsi non faccio differenza sono dal tonico anche per il tipo no 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 via via no ce la faccio ce la faccio ce la faccio olè vai vai perfetto ripigliati hai trovato redbox là sotto non lo so c'è qualcosa di morbido no 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 voglio vivere voglio vivere tanto cosa te ne fai tu della carne non la voglio appunto divertitevi voi due non mi diverto io mi diverto solo con te voglio la tua carne che tu non vuoi no ma la voglia di tentare di buttarmi fuori ma siamo su un ring con che salti ma tu la vuoi una ringa sotto sale ma perché ma perché perché sembravi un pesce no red no red no 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 allora cosa è 5 e 9 no per un secondo credevo ti salvarsi eh ma vinci sempre tu eh c'ho la scilla pustolente alla mia arma segretta e allora devo tornare tra una settimana senza lavarmi ah io uso un trucco il gorgonzola spalmato sotto l'ascella 24 ore fidati risultato garantito voglio fare una prova non mi toccate voglio fare una prova via 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 olè cosa vuoi ce la faccio ok ce la posso divertitevi voi due è tutto questo per ahahah islam ma perché non salta sto schifo no no volevo saltare anch'io e fare lo sluffone alla grande alla grande ahahah è che ti salta 70 anni in realtà no me lo sentivo dove no ti sentivi un dirigibile un culo si adesso va in bagno al tribo no no non volevo dirlo eh no no o no valliamo sapete che ho problemi con le altezze no eh abbiamo ragazzo no eh vabbè almeno non hai vinto tutta volta si sono spalmati il raid in autostrada direttamente ho detto che sia ambigua assistente ma ce l'ha la patente per questi automezzi aspetta 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 raggiti 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 che muo cosa fate no ha grappata la mia mano lon con la manina non mi piace tenere più mano le persone no sono svenuto sono svenuto male vinciamo a restare così io non vedo niente la telecamera non mi fa vedere niente io vedo dentro il cassone vuoto che spreco di ciove addio no no ancora vivo perché hai mollato perché sono scivolati come due insetti sono vivo trauma cranico no ero incassato col camion io allora perché voi siete sempre sempre in ascensore ma io non voglio io non voglio stare in ascensore niente di animali in ascensore ragazzi ecco vai fuori ma perché io non vengo quando è il mio piano quando è il mio piano io premo i tasti a caso ho bisogno del 118 non è quello il 118 non è quei tasti dell'ascensore oh si sente si placchi io ti uccido no 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 vorrei vivere se non le dispiace no red red tirati su no aspetta tiriamo su red tiriamo su red tiriamo su red vai fate grappare fate grappare da red dammi la mano ok ok tira su red oh le grazie lei vive l'amicizia festeggiamo ok divertitevi divertitevi buoni buoni no no vi ho preso no no lasciatemi moriremo tutti insieme no no io vivrò io vivrò no 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 andate via andate via cos'è no vi porto via con me ho paura ho paura come mi tocchi tu non mi tocca a nessuno non cos'è sta massa umana ok ok potete andare potete andare lasciatevi tu sei il mio bambù cos'è vieni qui cos'è no ok vi tiro su io vi tiro su io aspettate no no oddio 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 ho paura ho paura assistente no assistente mi salvo mi salvo sono a posto io no sono a posto divertitevi levatevi no 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 cosa è successo cosa cacchio sta succedendo cosa sta succedendo levatevi mollalo assistente red tirati su cadi con l'assistenza no giammai levati no strato strato no no sono stato io sono stato io palesemente mi fanno male le guardie no red red no red no che culo e noi ho il coso che mi fa da fare accadute ma tu rimani sempre appiccicato sempre uno sticky perché sono talmente sporco che c'è tipo il corpo rivestito di attacca naturale allora sai cosa faccio adesso gli orsi sono famosi per avere tanto mocciolo nel naso che schifo lo faccio uscire tutto e mi appiccico alle cose no 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 guardi vado nel mio negozio quindi non potete entrare chiuso a fine settimana no mio negozio maledetti orsi che vengono a rubarci il lavoro ai nostri dipendenti prego sono lo sciaffo ah ok scusi allora io mi porto via la porta mi ero affezionato romani non puoi portar via la porta che romani popolo di Roma cosa faccio popolo di Roma cosa fate ma siete fuori di testa voi due ti portiamo al pativolo sulle mani no sulle mani solo per la intro ma cos'è quella caduta da gatto si ok buongiorno no i gatti nel negozio c'è chi tocca chiaramente all'entrata io non posso entrare mi riga tutti gli occhiali un negozio di occhiali fa i geni 80 ti metti in riga gli occhiali ma perché fuori del mio negozio è un negozio di cadaveri che tu sappi no 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 la puzza sono io arrivo io sono superman cos'è c'è il peggior supercat che si chiama io basta basta cos'era bambini fate modo bambini se no non mi porto più in questo caso vuoi un gatto cucinato alla braccia no ma la mia cos'è cos'è buoni io sono lo spider man da dove ma spider crap che recupero ho fatto spider crap ragazzi aspetta rider ti salvo io no mi fermo fucite scelta no salva ti rider grappati a me grappati a me grappati a me ok abbiamo perso gandalf frodo vai a raggiungere gandalf ma no aspetta 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 no butta l'anello frodo no no vittoria non ci credo non ci credo non ci credo mi ha staccato il dito come ha fatto gollum eh si anche altre parti del corpo ma a cessare intendevo la luce del piede sinistro ah la luce valgo perché noi valiamo red ti tiro una craniata levati no red no red no levatevi levatevi cos'era ho visto male la testa dell'assistente per un secondo no 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 aiuto scivolo red vai via io sono rambo muori no sei strambo casomai salvo salvo dove sono non vedo più l'assistente dove siete dove sono eh io sono in un borgo qui non vedo niente cacchio scivolo 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 fate voi due lì divertitemi voi due io sono sparmato a te guarda che si salva red come si fa no non così si l'assistente ha visto un topino cos'era ti vedo per il culo cioè vedo proprio una e poi ho scoperto che esistono i due pugni state buoni ah si state buoni voi due scusa che ci fa un gatto in fabbrica che mi è è con lui che dobbiamo testare se ne la nessuno allora si putta il gatto dentro putta il gatto dentro aia mi ha fatto sentire con che tiro preciso con che tiro preciso red il gatto potrebbe essere ancora vivo vai a dare un'occhiata no no io premi i tasti a caso ragazzi non sto scherzando io ho scoperto adesso davvero il pugno sinistro contenete la gioia perché questa è la mappa che mi piace di più no no sono ancora appeso sono ancora vivo non ci credo guardami vedo gli occhiali guarda i miei occhiali che ti vedono che brutti gli occhi bianchi dietro gli occhiali ciao una testata una testata no no grazie assistente grazie assistente e adesso addio assistente ma perché perché è ancora lì allora gli butto giù il container io no ma cari anche tu no cos'era no è sotto l'assistente aspetta aspetta ok a posto oddio che craniata che ho tirato oddio mi si vede sotto tutto guarda che bella visione no che brutta ma hai sentuto piatto lì red avevi detto che non l'avessi raccontato nessuno mi hai buttato nessuno eh dovevo farlo non ti ho eh dovevi lavarti era il turno del bagnetto no no ma come ma i gatti si sa si lavano a secco eh ah sì adesso io ti impesto eh sì bisogna farli fuori ma perché vale vale ragazzi io ho combattuto nei peggiori no cos'è l'assistente è ancora viva dobbiamo buttarla sotto aspetta 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 la vedo a prendere io no oh ma quello ci sono le scale aspetta red quello ci sono le scale è pericoloso e allora scendi così no no red no red no oddio red ci siamo proprio buttati malissimo eh ma i gatti si sa si aggrappano bene porca di quella porca ah io sono già a posto ciao ragazzi divertiti voi due sono pronto per l'abuso no red anch'io ah no gatto vai via no assistente la ti sta abusando il gatto no che io non voglio guardare mi copro la faccia con la mano non è uno spettacolo per i bambini non voglio vedere cos'è il mio corpo è pronto il mio corpo non vedo niente my body is ready aia 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 cosa dove siete non vedo niente non vedo niente siamo caduti tutti ma no non ci credo ma no impossibile il potere del camion è forte in me anch'io lo voglio abbracciare cos'è tutto questo amore improvviso ti vogliamo bene ma levatevi mi state impelando la giacca no 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 ti ho incurato tutti vedo il culo del gatto ma con quella coda lì secondo me lo buca con le unghie e si esplode tutto no 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 mettila quello è il mio pezzo preferito cos'è mi si era pagato tantissimo mi manca per la collezione cosa faccio qua su io come cavolo hai fatto? non lo so non lo so io voglio salire c'è notare il mio pugno come dire no sono su per me sono su per me sono su per me sono su per me no mi cade tutto mi cadere il cartellone in faccia aspetta aspetta mi si è infilato il muso nel sedere resta attento che scivoli no è mio no 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 beh almeno son morto con il mio pezzo di cartellone le magre soddisfazioni dell'orso moderno ho imparato a rampicarmi sono un mizzo bravo aia aia io passavo di lì mi hanno preso cartonate nei denti con che pugno con che pugno con che pugno mi hanno tirato su levatevi levatevi ma mi avrebbe mia 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 ok oh vi stai vestendo tutti una roba incredibile no no se non vi avrete tutti e due il gatto assistente non so come ha fatto a volare fuori signor baffo signor baffo sono un baffo della birra moretti no 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 red no 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 red vai via red vai via a testate a testate vai via red non so qual è il tasto per le testate da pc a b c c f ok recuperato il contro mi ha basso recuperato no no qual è il tasto degli abusi sul console no che cosa no cosa ho fatto no no che faccio si John Knight olè ma cos'è non lo so le mostre da Rexler lui eh John Cena l'assistente è attaccato al fianco oh ho preso il tasto cos'è ce l'ho fatta ce l'ho fatta ma guarda guarda che recuperone ciao assistente neanche nei peggiori film di Steven Seagal ma perché volo via così tutto il mondo faccio lo sbruffone come ha fatto prima l'ho qua ok vai 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 uguale uguale non salta non salta no no sono appeso sott'acqua sono appeso sott'acqua non ci credo guardalo sono appeso sott'acqua aspetta il lag è più lag è differente dai no 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 posso trattenere il fiato parecchio no a quanto pare no 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 mio garage vieni giù è il mio garage vai via ma adesso non ho imparato a essere sott'acqua vieni giù vai via red non è usato il culetto maledetti orsi vai via è svenuto per l'odore che puzza vai via avemus papa addirittura oddio ah mi si è chiudo il cotto di nuovo red 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 che fai che fai radiatori combattete per il vostro re radiatori cosa siamo diventati i termosifoni li abbiamo fin li hanno già presi e quindi li abbiamo i radiatori ma cos'è esatto è vero no c'è l'impermeabile che mi si blocca in giro no io non mi voglio qua non mi voglio vieni qua vieni qua ti segno io a fare il gladiatore allora scendiamo cosa faccio ma come sei come sei impilato sono superman vado via vado via ho sbagliato tasto ti sei buttato nelle piazze un bel tuo tasto un bel tuo tasto allora come buttare via l'imbondizia tutorial numero uno si va dall'orso si da una cragnata l'orso non vuole essere buttato via si prende l'orso ma l'orso dove va non è riciclabile va nell'orso nell'orso non è riciclabile ce l'ha fatta red ha vinto lei tutorial finito non ci credo lasciate un like condividete su facebook e non mi ricordo più va ha fatto tutto lei non devo fare niente nemmeno io buono 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 io direi che per questa follia con redbox e l'assistente abbiamo dato veramente il peggio abbiamo dato veramente il peggio di noi e tranquillo red sono qua che sto svenendo lentamente guarda sta cambiando colore a seconda della ventata che gli arriva buono non dimenticate di fare un salto sul canale di redbox che ovviamente trovate in descrizione e se volete altri video lasciate un bel mi piace e fateci sapere nei commenti ovviamente cosa ne pensate nooo non mi veniva più niente da dire sull'outro perché mi è arrivata una zaffatta di quelle brutte brutte di redbox ciao ciao ciao